Sì, è un paradero di dove sta Lì a te la Del mio padre Quanto sta preguntando Por dove sta Por dove sta Donde sta Allora, voglio che questa stanno abbiamo expectato Il primo è expectato Banco Sassà, Brasil Banco Sassà, Brasil Banco Sassà, Brasil Banco Sassà, Brasil Banco Sassà, Brasil